11 aprile 2022, buonasera a tutti che ci seguite qui su LibriTV, oggi abbiamo Francesco Lepalo che è un ospite di LibriTV, già abbiamo avuto più di una volta, potremmo dire quasi un collaboratore con degli interessanti contributi. Francesco Lepalo, giornalista freelance, parleremo con lui oggi di un articolo e in premessa, tanto per fare da cornice e per creare lo scenario su cui ci muoveremo, vorrei dare tre in qualche modo coordinate, 48esimo giorno di guerra russo-Ucraina, dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, Draghi in Algeria per cercare di reperire il gas algerino, per affrancarci dalla dipendenza del gas russo, e la missione a Mosca del cancelliere ostiaco Nehammer, che pare non sia andata molto bene. Francesco Lepalo ha scritto un articolo qualche giorno fa, lo potete trovare su fattoquodidiano.it, proprio su gli ipotetici nuovi scenari energetici a livello europeo, che riguardano il Mediterraneo, subito il Mediterraneo. Ecco Francesco, di cosa si parlava e che cosa un pochino si disegnava come futuro per questa parte del mondo. Buonasera a voi, grazie Gianni dell'invito. Lo scenario è che al di là di come finirà questa guerra in Ucraina, tutti ovviamente speriamo con il raggiungimento di una pace nel più breve tempo possibile, è chiaro a tutti che il tema delle alleanze, il tema delle relazioni internazionali abbia subito una trasformazione completa. È chiaro che la Russia sarà un soggetto diverso rispetto a quella che abbiamo conosciuto fino a 50 giorni fa e anche l'Ucraina avrà un ruolo diverso, semplicemente perché dovrà essere impegnata in una fase di estrema ricostruzione. Diciamo che l'invasione russa in Ucraina è un po' come l'11 settembre per l'Occidente, perché segna un grandissimo spartiacque. Abbiamo visto che non c'è soltanto la contrapposizione Kiev-Mosca, ma a cascata ci sono una serie di riverberi su tutti i quadranti, quindi su quello aeromediterraneo, certamente su quello medio orientale, su quello della trasformazione e aggiungerei anche, oltre agli Stati Uniti, il passaggio sull'Australia che credo magari, se poi ne vuoi parlare, sia abbastanza importante. La differenza di percezione dei players coinvolti è fondamentale, perché noi oggi abbiamo un player che ha invaso, uno che è stato invaso e chiaramente il rapporto fra l'invasore e il resto del mondo non sarà più come prima, perché di fatto oggi la Russia è fuori dal sistema SWIFT delle banche, è fuori dal Fondo Monetario, è fuori dall'ultimo, dal Consiglio dell'ONU sui diritti umani e è fuori da una serie di situazioni internazionali dove prima c'era, dove prima era presente, come se una persona decidesse di andare ad abitare fuori dalla propria casa, decide di dormire per strada. La grammatica del mondo che abbiamo conosciuto fino ad oggi è diversa, è semplicemente diversa perché si è messa fuori un certo sistema. È chiaro che le alleanze diplomatiche si sono ricalibrate sull'invasione in Ucrania, quindi abbiamo visto come ricordavi il Presidente Zelensky che ha fatto una serie di apparizioni in parecchi parlamenti dell'Occidente, ma anche i soggetti non direttamente coinvolti, come per esempio gli Stati Uniti e la Cina, stanno ricalibrando le loro alleanze. Cosa ci dice questa guerra? Ci dice che il mondo è diametralmente cambiato ed è in atto una tempesta perfetta, perché dopo un biegno di pandemia in cui l'economia del mondo si è fermata e i cui effetti ancora non abbiamo toccato completamente con mano, viviamo in un momento in cui la crisi di alcuni prodotti che non ci sono più perché le materie prime direttamente connesse non ci sono più, si si scontra con una domanda che resta tale, ma con i prezzi alle stelle. Quindi il problema vero nel post-invasione Ucraina è un problema di ridisegnare completamente l'economia del mondo, i sistemi economici sono completamente cambiati dopo questa invasione e noi stiamo assistendo ad un anno che non sappiamo se sarà migliore dei due anni appena trascorsi, perché le previsioni di fine Covid si stanno magicamente e direi purtroppo tragicamente scontrando con quelle post-invasione in Ucraina. Quindi praticamente in tutto questo capovolgimento, o meglio rimescolamento, l'energia ha ovviamente un ruolo, soprattutto per chi non ha la produzione energetica in casa, così come detto in modo molto semplice e deve quindi rivolgersi all'estero. L'Italia è particolarmente esposta per quanto riguarda il gas russo, non solo l'Italia, ma insomma anche la Germania, ne acquistiamo molto, è molto importante, si stanno cercando di modificare alcune proporzioni di dipendenza e diversificare, questo poi si aggiunge e sottolinea anzi una politica energetica nei tempi, negli anni, ma neanche tanto lontani, anche recenti, abbastanza scellerata, come è stato già detto anche da autorevoli voci delle nostre istituzioni, si è poco pensato alla diversificazione e quindi praticamente a livello internazionale si aprono tutte quante delle attenzioni nuove, anche per quanto riguarda le condutture, cioè i pipeline che portano, l'attenzione su nuovi territori porta anche all'attenzione a nuovi paesi che potrebbero essere, diventare, dico protagonisti, ma comunque raggiungere un'importanza geostrategica, perché hanno per esempio, ospitano o sono vicini o sono prossimi ad una conduttura, un gasdotto, un'attenzione che prima non c'era e questo è il caso per esempio della Grecia? Assolutamente, diciamo che nell'ultimo lustro e forse anche qualche anno prima, l'Italia e l'Europa non hanno avuto molta lungimiranza, però bisogna fare dei distinguo, diciamo che un elemento, uno spartiacco importante è stato il gasdotto TAP, che porta il gas dall'Azerbaijan fino al Salento e così lungo la dorsale adriatica, questo gasdotto oggi è strategico, perché copre il 10% del fabbisogno italiano e costituisce la famosa bretella che permette alla Grecia di essere un hub strategico del Mediterraneo e di costruire le bretelle di collegamento con altri paesi come il TANAP e come l'IGP, che porta il gas sempre del TAP anche in Bulgaria e questo va ricordato a chi è stato un feroce oppositore del TAP, sollevando una serie di questioni legate alla sua sussistenza, all'impatto ambientale, fino anche con manifestazioni sotto la serie della TAP con dei bimbi in braccio, quindi c'è stata anche un'importante strumentalizzazione politica, se oggi la bolletta energetica italiana è sì cara, è sì più importante e più gravosa, ma non lo è più di quanto poteva essere senza TAP, lo dobbiamo alla realizzazione di questa infrastruttura fondamentale. Oggi un gasdotto equivale negli anni 60 ad un'autostrada, questa è una premessa importante per capire il ruolo di altri paesi. Voglio ricordare che nel 2015 l'italiana Eni, che è un colosso di proporzioni mondiali, che meriterebbe di essere supportata per così dire da politiche più lungimiranti, ha scoperto il giacimento Zor nelle acque egiziane, che è un giacimento di importanza strategica. Accanto a questo giacimento nelle acque israeliane ne è stato scoperto un altro che si chiama Leviathan, si tratta dei due maggiori giacimenti mai scoperti nel Mediterraneo. Da lì è iniziata l'idea di costruire un ulteriore gasdotto che prende il nome di East Med, che sarebbe dovuto partire da Israele per arrivare fino alle coste del Salento, alla Marina di Melendugno. Il problema di questo gasdotto, che è un gasdotto di dimensioni record, parliamo di 1500 chilometri, di costi altrettanto record, stiamo parlando almeno di 6 miliardi di dollari e di tempi di costruzione che si ipotizzino non siano inferiori ai 7-8 anni. Però questa infrastruttura fino ad oggi era stata caldeggiata, perché avrebbe rappresentato l'occasione di stipulare una sorta di Pax Mediterranea nel Mare Nostrum, cioè maggiore approvvigionamento energetico, maggiore diversificazione rispetto al vecchio approvvigionamento russo e una maggiore sicurezza legata a quell'approvvigionamento energetico, avrebbero garantito a quei paesi che si affacciano sul Mediterraneo una fase geopolitica nuova. Gli elementi di criticità erano due, innanzitutto la contrarietà della Turchia, perché la Turchia rivendica la paternità di acque cipriote, che però il diritto internazionale non le consente, in quanto la Turchia ha invaso la parte settentrionale di Cipro, quindi era dove avanza delle pretese che nessuna legge e nessun diritto internazionale gli dà, e poi anche per questa ragione e in ottica guerra e geopolitica, gli Stati Uniti se prima avevano avvallato questo gasdotto, nell'ultimo trimestre hanno detto no, non ci serve più, preferiamo altre fonti. La guerra è andata lì a mettere sale su queste ferite, perché se ci fosse stato anche il progetto in azione, se fosse partito, si sarebbe avuto un raddoppio del TAP, quindi in sostanza l'Italia non avrebbe dovuto fare quello che sta facendo, cioè correre con il cappello in mano cercando altri approvvigionamenti. Proprio oggi il premio di Mario Draghi è stato in Algeria per siglare questo importantissimo accordo, nell'ultimo mese c'è stato un grande da fare da parte di Eni, che ovviamente ha trainato la farnesina, verso mercati emergenti che ci possono dare un sostegno come il Qatar e come il Congo, ma è chiaro che questi sono tutti palliativi, perché a noi serve una nuova autostrada, cioè il gasdotto. Questo nell'ultimo trimestre è stato prima, come ho detto, isolato dagli Stati Uniti, poi nell'ultimo due settimane il sottosegretario americano all'energia che è stato in visita in alcuni paesi del Mediterraneo, ha detto che comunque bisogna ridiscutere, quindi è chiaro che c'è un interesse. Il governo israeliano però proprio qualche giorno fa al Delphi Forum, che è un'importante assise convennistica che si tiene da 7 anni vicino proprio dove c'è l'oracolo di Delphi, nel centro della Grecia, tra l'altro per l'Italia c'era il sottosegretario con delega delle affaire europee Vincenzo Amendola e la direttrice dello IAI Nathalie Tocci, in occasione del Delphi Forum l'ambasciatore israeliano ad Atene ha detto attenzione, il gasdotto ci serve, noi possiamo correre con il cappello in mano cercando altre risorse da altri paesi, ma visto che il gas c'è nel Mediterraneo orientale, sarebbe un suicidio non utilizzare quel gas gas e comprare altrove ciò che invece noi abbiamo e produciamo in proprio. Quindi questa del gasdotti è un'altra partita importante, ma questa partita si lega con anche una pacificazione macro regionale, dobbiamo ricordare per dovere di cronaca che gli accordi di Abramo stimolati dall'amministrazione Trump avevano lo scopo di costruire una nuova stagione, completamente nuova, in quadranti medio orientali ed euro mediterranei che non si parlavano, grazie agli accordi di Abramo. Israele è riuscita a ricucire relazioni che erano interrotte con soggetti che sono importantissimi, vogliamo parlare dell'Arabia Saudita, vogliamo parlare degli Emirati Arabi Uniti, vogliamo parlare anche di situazioni complicatissime in apparenza lontane come quelle di Yemenite, ma che si riverberano nel mare nostro. Il dossier energetico dell'Iran sembra lontano dalla guerra in Ucraina, ma è drammaticamente vicino, perché per mesi e mesi si è ridiscusso di questo accordo che avrebbe favorito l'arricchimento dell'uranio dell'Iran, ma per esempio quando si è parlato dei primi negoziati sulla guerra in Ucraina, il Ministro dell'Esta di Lavrov ha detto che vorremmo fare un accordo, ma sleghiamolo dal tema del nucleare, perché tutti sanno che per esempio l'Iran ha una fortissima partnership con la Russia, con la Cina e con la Turchia e la Turchia è quel paese che fino ad oggi non ha applicato le sanzioni, come dimostra il fatto che alcuni yacht di grandi oligarchi hanno trovato riparo in Turchia anziché in porti italiani. È chiaro che una fase di pacificazione avrebbe trovato un ottimo punto di caduta in questo nuovo gasdotto East Med, ma la guerra ha, per così dire, rovinato i piani di chi stava organizzando una nuova, anche un nuovo business, perché bisogna riconoscere che chi esporta GNL, cioè il Qatar e gli Stati Uniti, avrebbero comunque interesse a vendere questo GNL che arriva proprio in Grecia, perché? Perché la Grecia ha un'isola, un'isola disabitata che si chiama Revitusa, il cui unico scopo è quello di essere rifornita di gas, un'immensa isola gasiera che riceve le navi americane e ne riceverà tante altre per appunto rifornire il proprio fabbisogno e collegarsi quindi agli altri reti di altri paesi. Quindi è chiaro che oltre al tema secco dell'invasione della guerra, c'è un tema energetico che è assolutamente preponderante e che si lega con il tema delle materie prime, materie prime non solo grano, ma parliamo di ferro, parliamo di litio, parliamo di titanio, parliamo anche del semplice acciaio, visto che l'Italia per esempio sul tema è in grande difficoltà, perché c'è la problematica legata all'ILVA, produzioni che sono diminuite nel corso del tempo per tante questioni legate anche alla sanità e all'ambiente che tutti conosciamo bene, però quel tipo di approvvigionamento se non è sostituito da un'altra strategia, è chiaro che dopo una serie di anni e di decenni porta a una crisi del sistema, oggi abbiamo la problematica legata al titanio, la Boeing che non è proprio l'ultima arrivata, non acquista più il titanio dal fornitore russo da cui lo acquistava, che è quello legato in una società legata alla società statale Rosatom e quindi questo titanio andrà sostituito in qualche modo, noi dobbiamo ricordare che l'Ucraina garantisce il 6% del fabbisogno mondiale di acciaio e questo acciaio andrà preso da qualche altra parte, ma è chiaro che chi non conosce la storia e la geografia, come purtroppo alcune cose che stiamo ascoltando, non si rendono conto che per esempio il porto di Odessa, perché è così attenzionato da chi invade? Perché il porto di Odessa è la porta più importante che dal Mar Nero far sì che tutti i convogli marittimi arrivino nei Dardanelli e quindi passando lo stretto dei Dardanelli e passando il Bosforo arrivi nelle regioni del Mediterraneo, cioè è un grande polo di trasporto, ma anche una grande clava geopolitica, in questo momento nel Mar Nero ci sono svariate navi che non possono partire, non possono arrivare, l'Ucraina da sola serve il 30% del grano mondiale e tutto questo grano per la maggior parte va a rifocillare quei paesi nel Nord Africa, tra cui Libia, Algeria, Tunisia, Palestina, Libano, paesi che sono già in una gravissima crisi sociale, democratica e anche politica. Peraltro su questo c'è una notizia che è stata data, secondo cui il raccolto di quest'anno al 90% pare sia salvo e che fa poi il parallelo con delle cose che a volte sono, non so, per chi non è esperto come me, anche inspiegabili come quello che pare, si dice, sia un calo, quasi un corollo del prezzo del grano nelle borse di settore. Sono delle cose, delle congiunture che a mio occhio, che non è quello di un esperto, sono abbastanza strani, che non tornano. Non tornano perché la speculazione si mescola ai fatti. Ricordiamo tutti che qualche giorno prima della tragedia dell'11 settembre qualcuno ha venduto tantissime azioni dell'American Airlines, quindi gli speculatori di mestiere fanno questo, gli speculatori fanno profitto sulla pelle della gente. Due anni fa, immagino che ricorderete tutti la fortissima esplosione nell'agosto del 2020 al porto di Beirut, che non solo distrusse il porto e grandi porzioni di città, ma distrusse i silos che contenevano il grano che serviva per il pane. Il Libano è un paese poverissimo, dove manca fino anche l'energia elettrica. Questi paesi, se non dovessero avere l'approvvigionamento di grano che necessitano. E voi dovete ben immaginare che sono paesi particolarmente attenzionati dalla jihad islamica e dal fondamento. Peraltro sono quelli paesi, anche limitrofi, con una grande percentuale di profughi. Assolutamente. Ricordiamo che moltissimi foreign fighters ai tempi dell'Isis venivano reclutati in Tunisia, un altro paese estremamente critico, ma tra quelli del Nord Africa, quelli chiaramente più sviluppato, più moderno e più democratico. Però moltissimi foreign fighters sono venuti dalla Tunisia, perché lo Stato islamico andava lì, dava uno stipendio a questi ragazzi di 13-14 anni che chiaramente non trovano lavoro e non lo trovavano e non lo troveranno, perché queste problematiche non sono ancora scomparse. Vogliamo parlare della Libia? In Libia avremmo dovuto avere delle elezioni lo scorso dicembre, ma la problematica della mancata normalizzazione istituzionale continua. Perché? Perché non c'è una strategia insieme e perché chiaramente queste problematiche sociali impattano lì. Vogliamo parlare dell'Egitto? Il Ministero dell'Agricoltura egiziano, la scorsa settimana, ha emanato un provvedimento di urgenza per anticipare i raccolti e anticipare la diversificazione di approvvigionamenti. Perché? Perché il grano è fondamentale a quelle latitudini, in quanto paesi molto molto delicati e molto complicati. Allora il tema della fama nel Nord Africa è un tema importante che si lega ai raccolti, perché l'Ucraina non può più, la semina in Ucraina non avverrà, la Russia non può esportare per via delle sanzioni. Quali sono gli altri paesi che producono grano? Dobbiamo attenzionare il Canada, dobbiamo attenzionare l'Australia. L'Australia è un paese che sembra distante da queste latitudini della guerra, ma è direttamente connesso. Perché? Perché l'Australia è collegato al resto del mondo, alla Cina, dallo stretto di Malacca. Lo stretto di Malacca è quel posto dove transitano i sette decimi dei commerci mondiali. Ed è connesso a quello che sta succedendo, perché come tutti sapete la Cina ha delle mire importanti su questo stretto. Qualcuno sta costruendo delle isole artificiali in questo fazzoletto di acque. Quelle isole artificiali potrebbero essere terra e quindi potrebbero significare sovranità nazionale. E questo è un altro scenario che è connesso all'invasione russa dell'Ucraina. Perché se domani mattina qualcuno si sveglia e decide da Ancara che per esempio vuole invadere Cipro, oppure vuole rivendicare l'errore dei trattati di Lausanne del 1921, quindi Erdogan potrebbe contestare per esempio le isole greche di Castelloriso e di Rodi. Sì, ci sono dei contenziosi aperti da tanto tempo. C'è Taiwan, c'è Taiwan. È per questo che gli Stati Uniti hanno concluso l'accordo AUGUS con l'Australia. Ci sono delle isole anche tra Giappone, Contese e se non erro la Cina, insomma, del segno nel mondo, insomma ci sono cose che sono un po' sopite e che possono riprendersi. E poi il titanio, il prezzo del titanio è schizzato del 400% dallo scorso gennaio ad oggi, in soli 4 mesi. Stiamo assistendo ad un capovolgimento di fronti commerciali pazzeschi e noi dobbiamo anche ricordare che in questo momento Shanghai sta vivendo una fase pandemica molto pericolosa e poco attenzionata per i media. E questo elemento impatterà anche sui commerci cinesi, sugli scambi commerciali e sulla diversificazione di approvvigionamenti per tutto il pianeta. Nessun paese in questo momento è a riparo dagli effetti della guerra in Ucraina, perché la guerra in Ucraina si è incastronata in un momento delicatissimo in cui gli equilibri sono cambiati, perché dopo il Covid c'è stata la guerra e tra il Covid e la guerra c'è una guerra commerciale dei prodotti e dei prezzi che sta impattando, vogliamo parlare dei tassi di interesse, l'inflazione sta deflagrando in un paese come gli Stati Uniti, solo due anni fa gli Stati Uniti festeggiavano per i posti di lavoro, per la ripresa dell'industria, Trump diceva io vi ho riportato i posti di lavoro, adesso la situazione è completamente diversa e non parliamo come tu hai giustamente citato il caso della Germania, perché la Germania ha avuto lo stop dal suo gasdotto, il gasdotto che la Merkel ha fatto costruire con la Russia, con Gazprom, il gasdotto Nord Stream 2, che è stato interrotto giustamente dal cancidere Scholz per via della situazione innovare, quindi l'economia tedesca, e l'economia tedesca è direttamente connessa a quella italiana, perché abbiamo tantissimi punti comuni come quelli legati all'automotive. Sì, sono tutte cose connesse, pezzi che vengono fabbricati da una parte e mandati dall'altra, posso dire che proprio in virtù di questi famosi microchip che mancano, l'industria dell'automotive ha modificato delle forniture facendo dei passi indietro, sostanzialmente per esempio i tachimetri, delle componentistiche elettroniche introvabili per cercare di, poi anche lì c'è stato un calo per quanto riguarda l'automotive, di non far arrivare le consegne a 6, 8, 10 mesi, un anno, sono tornati a costruire delle componentistiche con delle tecnologie che si pensava ormai superate, ma insomma si è tornati, ho avuto notizie appunto per esempio per quanto riguarda i tachimetri, ma chissà quante altre cose. Sì, è tutto molto connesso, siamo partiti dalla guerra russo-crime, da questo aspetto dell'energia abbiamo fatto grazie a te un po' il giro del mondo. Ma volevo chiederti, tu ovviamente sei sul LibriTV già stato, soprattutto come esperto in materia greca e area, il governo greco come si sta rapportando, un pochino ci sa dire qualche cosa in questo senso, Mitsotakis, come sta affrontando questa vicenda nuova che potrebbe portare, come abbiamo accennato appunto per quanto riguarda questo gasdotto, la Grecia ad una posizione importante all'interno dello scacchiere europeo? Il governo greco di Mitsotakis ha riequilibrato la postura greca nei confronti degli alleati atlantici dopo la deviazione che Tsipras aveva fatto verso Pechino e verso Mosca. Il fatto che le relazioni tra Stati Uniti e Grecia siano di nuovo tornate molto solide dopo la parentesi di Sirisa è dimostrata anche da un accordo che è stato stimolato dall'ex segretario di Stato Mike Pompeo e continuato ovviamente dal suo successore Anthony Blinken che vuole la Grecia concedere 4 basi militari molto importanti agli Stati Uniti e favorire il raddoppio della base per sommergibili che si trova nell'isola di Creta, cosicché l'isola di Creca possa ospitare il doppio del numero di sommergibili nucleari che poteva ospitare fino a ieri. Questo cosa ci dice? Dice che gli Stati Uniti nonostante continuino con una politica di disimpegno nel Mediterraneo rispetto al versante cinese che stanno attenzionando con più attenzione, però hanno deciso che è la Grecia il loro occhio nei confronti da un lato del costone balcanico, perché il tema del costone balcanico è fondamentale sia in tema di allargamento dell'UE, come dimostra la vicenda ucraina, sia dal punto di vista delle pipeline legate al gazdotto e soprattutto un occhio verso il Medio Oriente, perché? Perché nell'ultimo triennio la Grecia ha iniziato a testere delle relazioni sempre più fruttuose, con paesi con cui non aveva mai avuto relazioni o con paesi con cui aveva avuto relazioni minime. Oggi la Grecia ha un buon dialogo con Israele, ha un buon dialogo con alcuni paesi importantissimi come l'Arabia Saudita, l'Emirati Arabi, lo stesso Qatar. Vorrei ricordare che la Grecia ha donato, nelle sue ristrettezze, una batteria di patriota all'Arabia Saudita, quando l'Arabia Saudita ha subito l'attacco di alcune sue postazioni petrolifere da parte del fondamentalismo industriale, quindi questa rete delle relazioni continua. I gazdotti sono fondamentali, perché se dovesse essere portato avanti Smed, la Grecia diventerebbe davvero il fulcro del Mediterraneo. Aggiungo che la Grecia ha intelligentemente privatizzato i suoi porti guardando gli alleati di ieri e di domani, perché sotto il primo governo tra virgolette di larga intesa con la Troica nel 2012 è stata avviata la privatizzazione del porto del Pireo, che è finito nelle mani dei cinesi di Cosco, Cosco China è un colosso mondiale del settore dei containers, il porto di Saroni, questo privatizzato da un consorzio guidato da un oligarca, Elino Russo, che si chiama Savides, insieme ai francesi di CMA, che è una grossa realtà di Marsiglia e a un partner tedesco, e adesso il porto di Alessandrupoli sarà privatizzato verosimilmente da un player americano. Alessandrupoli è fondamentale, perché è il porto che si trova nella parte più settentrionale della Grecia, da lì passano le pipeline del gasdotto TAP, da lì passerà la via Carpazia, che è questo nuovo progetto della Nato, una strada che parte dalla Grecia e arriva fin su in Lituania, quindi sarà possibile sbarcare le truppe Nato e avere questa bretella di protezione dei Balcani, ed è soprattutto l'occhio anche verso il Medio Oriente, un Medio Oriente che sta diventando di nuovo strategico dopo una fase di annebbiamento, perché torniamo agli accordi di Abramo, che hanno segnato davvero una fase del tutto nuova e chiaramente con l'uscita di scena di Trump e con l'uscita di scena di Bibi Netanyahu è chiaro che anche Israele aveva necessità di riequilibrare il suo ruolo, al di là delle problematiche che sta avendo il governo di Israele, è chiaro che quella parte geopolitica non può restare secondaria, quindi anche sull'energia devo dire che la Grecia ci ha visto lungo dopo gli anni e vuole ricordare che pochi giorni fa il governo greco è riuscito a restituire il prestito al Fondo Monetario Internazionale con due anni di anticipo, ciò è costato tanti sacrifici, perché sappiamo bene che in Grecia il tema sociale delle pensioni è un tema ancora molto attenzionato, ci sono tantissime difficoltà, però è un segno di vitalità politica e perché no di lungimiranza, la Grecia dà un segno e dice che sono operativa, attiva dal punto di vista del gas, restituisco il debito al Fondo Monetario o una postura euro-atlantica, quindi le mie alleanze sono queste e non sono quelle di prima e quindi sta dando un segno importante. Oggi ricordiamo che il premio Merle-Gracchi è stato in Algeria per siglare questo importante partage, quindi credo che nel Mediterraneo si sia ricomposta un po' una grammatica comune in questi paesi. Perfetto Francesco, ti ringraziamo, ti ringraziamo per questa tua collaborazione in qualche modo con Libri TV, a ritrovarci a presto, sperando di parlare di tempi di pace, di essere in un contesto di pace che a dire la verità non è molto verosimile, almeno a breve termine, però insomma ce lo auspichiamo. Peraltro in Grecia ci sono ovviamente anche lì ospitati parecchi profughi che vengono dall'Ucraina ovviamente. Esatto, esatto, purtroppo non mancano e ce ne saranno tantissimi altri e questi numeri sono purtroppo destinati a aumentare. Grazie, grazie a Francesco De Paolo, continuate a seguirci su Libri TV.